Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Emma Marrone, una delle cantanti più amate in Italia, ha recentemente parlato della sua relazione con Maria De Filippi in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Marrone ha sottolineato l'importanza della conduttrice di amici nella sua vita personale e professionale, definendola una delle persone più significative per lei. La cantante ha ammesso di non aver mai tagliato il cordone umbilicale con De Filippi, condividendo con lei le sue nuove canzoni in anticipo e chiedendo consigli. Marrone ha rivelato che De Filippi sa tutto di lei, nel bene e nel male, e che se dovesse raccontarla lo farebbe con estrema precisione. Nonostante non escluda la possibilità di tornare come volto di un programma televisivo, al momento Emma Marrone si concentra principalmente sulla musica. La cantante ha annunciato un nuovo tour in autunno e l'uscita della seconda parte dell'album Souvenir, entro la fine dell'anno. Marrone ha dichiarato di essere concentrata sulla musica e di non escludere nessuna possibilità per il futuro. Emma Marrone ha anche svelato il suo rituale prima di ogni concerto, che include un sopralluogo nella location, la preparazione dei look e la sistemazione dei trucchi in modo preciso. La cantante ha condiviso di chiacchierare con lo staff, bere molta acqua e fare esercizi di riscaldamento vocale per gestire l'ansia da prestazione. Riguardo agli haters e ai commenti negativi sui social media, Marrone ha espresso la sua fiducia nel karma, sostenendo che il bene e il male che fai...